Per l'anno prossimo non sbagliare, stessa spiaggia, stesso mare, a patto che però la spiaggia ci sia ancora. Siamo a Sassonia, nelle concessioni che vanno dall'Anfiteatro Rastat fino al Molo. Qui il mare è lo stesso, ma la spiaggia non più. La debore scorsa mareggiata, con onde di appena un metro e mezzo, ha portato via una quindicina di metri di spiaggia e creato sull'arenile uno scalone di un metro e mezzo. Le nuove scogliere hanno funzionato dove c'erano, qui invece, mare libero di mangiare metri su metri di spiaggia in previsione proprio del posizionamento delle nuove scogliere. Allora, qui all'inizio di stagione praticamente si sta verificando un problema molto grosso. Avete difficoltà proprio per l'erosione? Esattamente, come era prevedibile, come era stato già detto comunque nelle precedenti riunioni durante la realizzazione per queste scogliere, che si paventava appunto la problematica di una forte erosione poi per la stagione e il fenomeno si è in realtà avverato. Questa cosa era stata comunque fortemente sottolineata all'amministrazione e ai tecnici già da allora. Sono state mandate anche delle lettere proprio paventando questo timore che poi appunto si è realizzato e diffidando comunque coloro che hanno fatto il progetto dal fermare il progetto dove sono arrivati ad oggi in quanto il progetto prevede la realizzazione fino al porto e quindi tutela tutti. Così è stata tutelata una parte però a discapito della parte che rimane verso nord dove sono io e altre concessioni che abbiamo subito una forte erosione. Il circolo velico poi con i suoi oltre 100 soci e 50 imbarcazioni in queste condizioni è impossibilitato a operare. Ovviamente ci è preclusa l'attività per via di sto scalino enorme di un metro e mezzo circa che non ci permette né di portare in acqua le barche né di tirarle in terra. Ma se dovesse veramente capitare come è già capitato un paio di anni fa e ricordiamo tutti l'acqua dentro l'anfiteatro Rastat e l'acqua che era arrivata praticamente alla passeggiata io non so che succede perché qui la metà del nostro circolo, la metà delle concessioni viene praticamente a sparire. Noi sul progetto delle scogliere non siamo mai stati contrari perché ovviamente tutti siamo per cercare di salvaguardare la costa quindi siccome i problemi erano più a sud di noi abbiamo sempre aderito al discorso delle scogliere però con un progetto che ci è sempre stato detto che sarebbe terminato nell'arco di una stagione e mezzo o due nel senso che già ci avevano detto che a settembre e che scusami che a aprile avrebbero terminato questi lavori per poi ricominciare a settembre e che comunque soldi stanziati ce ne sarebbero stati qualora l'erosione avesse colpito la parte nord. Con la stagione alle porte in questa porzione di litorale stando così le cose mancano l'appello oltre 300 ombrelloni fra tutti e tre i concessionari coinvolti. Qui il ripascimento secondo me non basta anche perché la prima mareggiata sicuramente l'acqua andrà a finire alla quarta, la quinta fila e quindi ci ritroveremo come l'anno scorso già è capitato. Cerchiamo di fare sempre la miglior stagione per tutti i bagnanti ovviamente cercheremo in un modo o nell'altro spianando, accorceremo un po' le file, comunque cercheremo di accontentare tutto. Chiedete che qualcuno intervenga? Sì, noi chiediamo subito, che intervengano subito, come ripeto, che mettano a bilancio immediatamente che ci garantiscono immediatamente che mettono a bilancio per l'inizio di settembre subito le altre scogliere che mancano come da progetto realizzato dalla regione, approvato dalla regione. Poi vogliamo ripascimento subito adesso, ripascimento anche un po' consistente soprattutto nei punti più critici tipo Bagni Maurizio o comunque altri punti perché è proprio evidente che c'è un enorme scalone, manca tantissima ghiaia.